Cari fratelli e sorelle, Oggi ricorre la giornata mondiale contro la tratta di persone, promossa dalle Nazioni Unite. Ogni anno migliaia di uomini, donne e bambini sono vittime innocenti dello sfruttamento lavorativo e sessuale e del traffico di organi. E sembra che ci siamo così abituati da considerarla una cosa normale. Questo è brutto, è crudele, è criminale. Desidero richiamare l'impegno di tutti, affinché questa piaga aberrante, forma di schiavitù moderna, sia adeguatamente contrastata. Preghiamo insieme la Vergine Maria perché sostenga le vittime della tratta e converta i cuori dei trafficanti. Grazie. 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 Grazie.